Oggi dipingeremo queste uova e diventeranno le nostre uova di Pasqua. Useremo questi materiali che sono facili da trovare. I materiali sono questi spray, uno glitterato e l'altro bello rosa, anche quello glitterato, cintillante e questa polvere che se la metti in acqua e la metti sopra le uova diventano viola. E poi questi food coloring, il blu, il bianco, il nero, rosso, giallo e il viola. Ma soprattutto dei pennelli che ci servono molto, tipo questi e questo spazzolino da tetti. Cominciamo! 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 Adesso mentre mia mamma mette i colori tutti quanti, io ho indossato i guanti. Se volete anche voi lo potete fare, così le vostre mani non diventano coloratissime. Il colore ha fatto così. un'altra parte, così, è un'altra parte. Ok, ho finito uno delle uova, però manca l'ultima cosa. Vado a vedere loro, i nostri amici. Ecco qui, l'altra parte per la quarantena. C'è il suo buon lockdown, no? Sì, in mezzo a quattro anni. Sì, sì, in mezzo a quattro anni. Tadà! Eh? Che bello! Ricordatevi che questi sono di uova? Sode! Sode! Se sono da bere, cade una, tutto macchiato. Noi poi stiamo uscendo tutti i materiali e i colori, tutti commestibili. Anche le uova sono commestibili, quindi non sprechiamo niente, niente, niente. Sì. E poi dopo lo possiamo anche mangiare! C'è un sacco di odore. Buonissimo! Ricordo tantissimo la pasta di zucchero con la torta della mia mammina. stiamo facendo una bella idea per passare il tempo con la famiglia, mentre siamo in... Quarantena! Colore! Adesso io sono diventata Hulk con le mani verdi! Saluta Gioros che le piace tanto. Ah, giusto, adesso voglio salutare il mio fratellino Gioros che gli piacciono un sacco gli Avengers! Ciao Gioros! Che è scappato! Mamma mia, abbiamo un ospite! Che non è proprio un ospite che ci sta subgrincando! E' il mio super papà e il mio fratellino Gioros! Ecco il nostro Hulk! Ciao, vorrei! Ciao! 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 Grazie a tutti. Ecco il mio uovo. Rappresenta l'Italia. Lo sapevate che la bandiera d'Italia aveva dei ruoli? Il verde sta per il prato, il bianco per la neve e invece il rosso. Il rosso, questo qui, quello ultimo. Il rosso sta per il sangue che cade nelle guerre. Guardate un po' qui. Da prima tutte bianche e marroni e adesso tutte bellissime e colorate. E adesso? Ricordate prima quando ho detto che dovevamo aprire questo? Sì! Bene, dentro c'è una bellissima sorpresa. Non è troppo una sorpresa, ma apriamola! Vediamo. Allora, aspetta. Potresti colorarti le mani, a te non piace. E lascia provare lui. Non sai come apriarlo quindi. Abracadabra! Abracadabra! Apro io? Adesso voglio tantissimo salutare tutti i miei compagni di classe e le maestre. Spero tanto che passiate una bellissima giornata e tutte quelle che andranno dopo questa, mentre siamo in quarantena. Ciao, ciao! Ciao! Ciao a tutti! Nel prossimo episodio di Ciao Giulian and Company! Ciao, ciao!